Frascheri S.p.A. produce oltre alla panna altri articoli dedicati al settore professionale. In primis sicuramente il latte. Anche qui abbiamo diversi prodotti e diverse tipologie. Partiamo da un latte fresco, quindi tradizionale, 6 giorni di scadenza, esclusivamente alta qualità, sempre tutto rigorosamente piemontese, disponibile in confezione da litro e in confezione da 10 litri, bag in box. Abbiamo poi il nostro di più, che è un latte a media durata, quindi un alto pastorizzato, un prodotto che è stato studiato esclusivamente per il canale caffetteria, quindi abbiamo un prodotto con una schiuma molto importante che si adatta assolutamente a latte art piuttosto che a altri servizi di questo tipo. Abbiamo poi tutte le referenze UHT nei diversi formati, quindi intero, parzialmente scremato, totalmente scremato. Abbiamo la confezione da litro senza il tappo, la confezione da litro con il tappo apri e chiudi e poi il bag in box da 10 litri. Abbiamo la variante dell'attosata, che è sempre più importante. Il latte dell'attosato è cresciuto negli ultimi anni, gli intolleranti al lattosio o i presunti intolleranti sono sempre di più e quindi la referenza diventa interessante anche sul professionale. Questo perché? Perché se abbiniamo un latte dell'attosato alla nostra pannariana dell'attosata, un gelatiere può ad esempio fare un fior di latte per gli intolleranti al lattosio, oppure un pasticcere può fare una preparazione sempre priva di lattosio, quindi una crema pasticcera piuttosto che altre creme o altre preparazioni. Le referenze sono disponibili sia in formato da litro che in formato bag in box. Tutto questo per supportare i professionisti nei diversi settori nel modo migliore, con il formato loro più indicato e il prodotto giusto per loro.